Salve a tutti da Riccardo Zarfati, portafogli ETF di One Hour Trading. Vediamo che cosa è successo oggi sui mercati con spunti operativi per la giornata di martedì 5 di luglio. Lista degli ETF che seguiamo, monitoriamo ogni giorno con le nostre candele giapponesi modificate Aikinashi. E questo il quadro della giornata. Vedete oggi gli indici europei ne hanno approfittato per un ritracciamento approfittando magari della borsa americana chiusa oggi per l'Independence Day. Vedete l'Italia a meno 1,74%, Germania a meno 0,69%. Come al solito questa differenza è ampiamente spiegabile dalla performance particolarmente debole di alcuni bancari oggi in giornata, alcuni dei quali sospesi anche per eccesso di ribasso. Come detto, stando nel pur chiusa, dal punto di vista dati macro è stata una giornata senza grosse indicazioni. Segnalo sopra il sentiment index della totale Europa, 1,7%, decisamente sotto le attese che erano 5%, e vedete anche il brusco calo rispetto alla lettura precedente che era 9,9%. Credo che questa sia probabilmente la prima rilevazione fatta post-Brexit. Guardando alle materie prime, oro prosegue a rialzo, più 1,11%, il petrolio continua a muoversi molto poco nelle ultime giornate. Anche la borsa di alcuni futures era chiusa, quindi in questo caso il corno, mentre l'euro dollaro e il forex sempre aperto, e oggi l'euro dollaro comunque con piccoli movimenti, 0,14% e siamo sempre lì, 1,11% e 4%. Per cui andiamo subito a vedere le nostre candele se c'è qualche cambiamento rilevante da fare per quanto riguarda l'approccio operativo. Vedete lo strumento, questo è l'Italia, LTF MIB, che segue l'indice italiano principale, vedete fa un meno 1,70%, analogamente chiaramente al sottostante, per il momento non compare ancora una candela rossa. Per cui c'è una candela ancora verde, seppure chiaramente di debolezza, per il momento si può tentare di lasciare, anche se chiaramente questo è l'indice italiano. In questa fase è quello un po' più a rischio rispetto agli altri due, proprio per il peso dei bancari. Ma al contrario, per gli stessi motivi, dovessero ripartire, e spesso ripartono all'improvviso i bancari, questo potrebbe essere un indice molto interessante. Per ora lo seguiamo ogni giorno, al momento facciamo notare un'ulteriore candela verde, per cui posizione rialzista con stop stretti da tenere, anche se qua chiaramente gli stop vanno posizionati, non prima di 15,200 circa. Questo per l'indice italiano, sul DAX abbiamo una situazione tutto sommato simile, il decremento giornaliero è stato meno ampio, e vedete comunque, fa un'altra candela verde di trend, senza code inferiore, per cui sicuramente si può tentare di lasciare posizione rialzista di breve, anche per l'indice tedesco. Sul mercato americano, oggi chiuso, c'è stato, vedete, 0,04%, ovviamente non si è mosso molto, comunque, nessuna traccia al momento di allerta o di pericolo su questo indice, che vedete ormai è la quarta candela consecutiva verde di rialzo. Materie prime, bene l'oro, vedete oggi un buon 1% per XA di 1, che ricordo uno strumenteggiato, per cui qua probabilmente non c'è più la divergenza ribassista, che avevo segnalato qualche giornata fa, per cui ancora una candela verde, siamo di nuovo al secondo ipercomprato, però al momento, finché rimangono candele verdi, chiaramente si prova a seguire senza indugio. Qua ricordo il suggerimento, probabilmente vale la pena mettere uno stop qua in area 97,15, chiaramente per posizioni di breve, per coloro che credessero a loro in posizioni di medio e lungo periodo, ovviamente le eventuali chiusure sono molto più distanti, direi a questo punto, intorno ad area 89, nelle prossime giornate. Qua da un punto di vista grafico di estensione delle gambe, questa prima gamba rialzista ha fatto seguito a un ritracciamento, ed ora si sta probabilmente completando una seconda gamba rialzista, ma non è detto che non siano più di due le gambe, che sia proprio un movimento rialzista molto più strutturato, chiaramente per il momento è difficile dire, possiamo solo vedere un'ulteriore candela verde, per cui si mantiene la posizione rialzista con lo strumento in essere. Sul corn oggi poco da dire, il mercato era incluso, lo strumento adeguato ai prezzi della chiusura di venerdì con l'ETF, chiaramente vedete sta guidando decisamente il trend ribassista. Infine il petrolio è da qualche giornata che vi segnalavo la possibilità che ci possa essere una certa lateralità sullo strumento, per il momento le cose stanno proprio andando così, vedete dopo questo ritracciamento ha fatto un rimbalzo, è ritornato giù, è ritestato di nuovi supporti, ma per il momento non è ancora partito, e vedete si sta diminuendo la volatilità sullo strumento. Diminuzione di volatilità che in genere porta ad esplosioni in una direzione o in un'altra cercheremo di capire quale sarà la direzione per eventualmente intervenire anche su questo strumento. Dal mio punto di vista tenderei a preferire posizioni long, magari da un test dei supporti più affidabili, che sono a mio avviso in area 2.6, ma comunque per trading si può anche tentare sullo slancio, sulla rottura delle resistenze, e magari su una seconda candela rialzista domani, eventualmente se sarà notata sui grafici. Bene, questo è tutto, per cui poche variazioni oggi non cambia nullo dal punto di vista dei trend prevalenti di breve, per cui si può tentare di rimanere a rialzo sui mercati, anche se c'è qualche traccia di stanchezza, in particolare sull'indice italiano. Decisamente ancora rialzo l'oro, a ribasso il corna, mentre il petrolio non ha ancora dato un segnale, a mio avviso, affidabile, ed è in una fase di lateralità, di brevissimo, che stiamo seguendo ormai da qualche giornata. Like se vi piace il video, invito a visitare naturalmente il sito www.onewartrading.it, là troverete tutte le informazioni per sottoscrivere un abbonamento, e costruire insieme un portafoglio fatto esclusivamente di ETF. Contatti, grazie per l'attenzione anche per oggi, ci vediamo naturalmente domani per un nuovo appuntamento. Buona serata!